Un saluto a tutti i telespettatori, oggi al Totti Patrignani, il brodetto dell'Adriatico sfida il cacciucco alla Livornese, bando agli scherzi. Fiorini Pesaro Rugby affronta l'unico usano Livorno per un match molto delicato. Fiorini Pesaro Rugby che è chiamata a cercare la terza vittoria in campionato per staccarsi definitivamente dalla zona di bassa classifica. Livorno che invece sicuramente cercherà una vittoria per allungare la striscia positiva. Adesso subito un attimo di pausa, un minuto di raccoglimento in ricordo di Alfredo Gavazzi. Abbiamo rispettato il religioso silenzio, il minuto di raccoglimento in ricordo del penultimo presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi, venuto a mancare prematuramente nella giornata di giovedì e proprio adesso mi ha raggiunto alla postazione di Telecronaca il giocatore della prima squadra Smile Jawai. Ciao, ciao a tutti. Ben trovato Smile, oggi partita come dicevamo prima interessante, Pesaro chiamata ad allungare per abbandonare e lasciare le ultime squadre che lotteranno per la salvezza di fronte a un Livorno neopromossa e che deve fare ancora punti per capire quello che sarà il suo posto in questa Serie A. Livorno che fra l'altro ha iniziato subito bene in attacco, Pesaro subito un fallo, vediamo se Livorno andrà subito per i pali o meno. Così è quindi subito calcio di punizione per il Livorno. È vero, il Livorno è una squadra appena salita in A, ma come vediamo già in campo subito nei primi minuti, molto aggressiva, compatta e adesso vediamo che si dà la partita. Pesaro ha un po' dormicchiato sul calcio di avvio del Metz. Vediamo adesso chi è il calzatore prescelto per il Livorno. Numero 15 Salime. E sbaglia da posizione decisamente buona Salime, buona per la Pesaro Rugby che se no avrebbe dovuto iniziare subito sotto per 3-0. Così non è, si riparte con un calcio di rinvio dai 22 in favore del Pesaro. Giobert a calzare il pallone lontano. Recupera Salime che manda dentro una terza linea centro. Superiorità che non è nulla di fatto con un avanti del Livorno. È un Livorno che prova subito a dettare il ritmo del gioco, così non riesce. Adesso vedremo subito la prima mischia di questa partita. Subito un in avanti per il Livorno che prova a... No, che sceglie, ha scelto la Touche. Ha scelto la Touche, Pesaro. Ha la doppia scelta tra mischia perché è uscita anche la palla fuori dopo l'avanti, quindi può scegliere sia mischia che Touche. Mischia a 5 per Pesaro, ma lancio storto da parte di Stefanini e quindi si riprenderà con una Touche in favore dell'Unicusano. Strana anche la scelta di questa Touche a 5 dopo che nella scorsa partita, due settimane fa, Pesaro era andata molto bene in Touche. Adesso invece è l'unico usano che sceglie una Touche a 6 e prova subito a impostare la Moll. Vediamo Pesaro come e se riesce a contrastarla. E' però il Livorno che avanza con Giusti, il tallonatore, Moll che crolla, comunque nessun vantaggio sembra. Allora è Livorno che gioca con la terza vicino alla RAC. Vediamo Livorno che prova a stendersi con Martinucci, uno degli uomini di maggiore esperienza di questo Livorno. Pesaro chiamata a essere ordinata con la linea di difesa. Livorno fino adesso ben organizzata, fanno le famiglie da tre e attaccano sempre lì vicino. Un po' alto il paccaggio però riesce ad andare oltre il Livorno, adesso è Giusti ancora ad andare avanti. La terza linea bascia, adesso ottimo, placcaggio di Venturini, oggi titolare ma Pesaro che dimentica l'ala. Per fortuna riesce a recuperare, bascia l'impatto. Pesaro sembra avere qualche problema nel fermare i tre quarti del Livorno. Adesso è Pesaro che deve organizzarsi in difesa, non lasciare nessun allargo e adesso il Livorno commette un out. Forse è passaggio un po' telefonato in questo caso. Sì, anche Pesaro sta difendendo un po' male verso gli esterni, si stringe un pochino troppo sui 15. Non dimentichiamo che quest'anno Pesaro ha un triangolo allargato tutto da rodare, ancora oggi un cambio. Quindi c'è De Angelis a estremo dopo che aveva iniziato Stura inizio campionato, che poi ha riportato un infortunio. Alla Reciarte, alle ali, insieme oggi a Gabriele Venturini che non aveva mai iniziato dal primo minuto. Questa volta buona la touche per Pesaro, con Caroli a prendere in maniera sicura il pallone. Calcio di Jobert, ma probabilmente c'era un fuorigioco del Livorno e quindi si riprende con un calcio di punizione per Pesaro e questo è ossigeno puro per i giallorossi. Sì, adesso vedremo cosa scelgono, penso che andranno per la touche lunga. Ritmo ancora basso, soprattutto per Pesaro. Vediamo, Jobert sicuramente cercherà una touche, touche che non riesce a centrare. Bravo l'ala del Livorno, ma poi un in avanti del Livorno permette a Pesaro di risalire non pochi metri. Pesaro invece gli dà il calcio di punizione a favore perché il giocatore cerca di recuperare la palla nonostante l'avanti da fuorigioco. Uno di quegli errori assolutamente da evitare, così non è stato e quindi Pesaro si ritrova con una buonissima touche più o meno sui 5 metri dalla linea di meta. Vediamo adesso se Pesaro cercherà di organizzare una molle o meno o no. Pensavamo 5, invece sono almeno 10 metri dalla linea di meta, comunque probabilmente l'organizzazione non cambierà. Pesaro partirà con una touche molle che prova a organizzarsi. Grande spinta degli avanti giallorossi. Vediamo che continua ad avanzare. Ancora la tengono dentro, la tengono dentro. Scelgono di continuare, cadono e addirittura meta tecnica decisa dall'arbitro imbriaco di Bologna. Probabilmente perché la molle è stata fatta crollare appositamente dal Livorno. Sì, è sicuramente così perché praticamente stavano avanzando sulla linea di meta. Dei ingressi laterali non hanno permesso al peso di segnare che avrebbe segnato comunque. Ricordiamo che dall'anno scorso la meta tecnica vale 7 punti perché non c'è neanche bisogno di trasformarla. Quindi al settimo minuto del primo tempo la Fiorini Pesaro Rugby si porta avanti per 7-0 contro il Livorno. Dicevamo di un Livorno che è neopromosso, è stato appunto anno scorso, ha ottenuto la promozione in serie A. È una delle tante neopromosse di questo girone e è iniziato piuttosto bene dato che è vero che solo domenica scorsa contro il Napoli ha trovato la vittoria alla quarta di campionato. Intanto adesso un attimo è il Livorno che riparte subito, velocemente. Pesaro si deve riorganizzare in difesa. È un Livorno che cerca di mettere tanto ritmo in questo gioco. Vediamo Pesaro se è riuscito a riorganizzarsi. Adesso buono l'incrocio del Livorno ma commettono un in avanti. Buono per Pesaro perché anche se comunque la guardi effettivamente sull'attaccante c'era. Però era stato un buon inserimento, non sono riusciti a portare a termine la giocata. Dicevamo Livorno che domenica scorsa ha trovato la prima vittoria di campionato, la quarta giornata in casa contro il Napoli ma che ha iniziato abbastanza bene visto che è riuscito a far punti sia contro il Civita Vecchia che contro l'Avestano che sono due squadre che sicuramente al momento lottano per la salvezza. Poi vedremo con il proseguo del campionato quelli che saranno i valori indicati dalla classifica. Oggi comunque Pesaro ha 10 punti in classifica, Livorno 7. e quindi questa è una sfida decisiva per vedere se le due squadre continueranno, metteranno distanza fra loro o continueranno appaiate. Intanto un calcio di punizione in favore di Pesaro. Mischie molto equilibrate però il pilone sinistro del Livorno commette un fallo e quindi si riparte da un calcio di punizione. Calcio di punizione è corto ma sicuro, Tush praticamente davanti a noi in questo caso. Sarà ancora il giovane Stefanini a lanciare la rimessa laterale in favore dei giallorossi. Vediamo Stefanini con cappello rosato a zero, non so se sia stata la matricola in occasione, l'aveva già fatta la matricola e quindi adesso Pesaro che riparte bene con Tontini a prendere l'ovale, Pesaro che prova subito a distendersi, paletta per Venturini, paletta che va dentro, buonissima la pulizia, adesso Pesaro è un po' fermo, non c'è profondità. Vediamo se riesce a ripartire, riparte con il capitano Villarosa oggi nuovamente in campo, è un piacere rivederlo, insieme ai suoi compagni purtroppo c'è un tenuto proprio dello stesso capitano e quindi si riprenderà con un calcio di punizione per il Livorno. Sì, peccato l'azione è molto bella e veloce, è un ritardo di Venturini che ammazza un po' l'azione. Pesaro Rugby che è andata subito in meta, la prima e probabilmente anche unica azione in attacco mentre per il resto la partita sta provando a farle il Livorno. Diciamo la verità, al momento nessun grosso e serio problema per i giallorossi, però il pallino del gioco lo stanno tenendo in mano gli avversari toscani. Adesso è Livorno che prova ad andare dentro, Pesaro che deve riorganizzare la linea difensiva, provano ad andare sui tre quarti, Salemi provano a riportare dentro, adesso è bravo Paletta a recuperare il pallone ma probabilmente c'era un out, sì è così e quindi si riprende con una tuscia in favore dei giallorossi sui cinque metri difensivi. Grandissimo possesso palla del Livorno che ci prova, ma Pesaro è ben organizzato in difesa e riesce a coprire bene il campo. Vediamo questa tuscia molto delicata, bravo Tontini a portare palla a terra, Pesaro che prova a impostare la molle per avere poi una buona piattaforma probabilmente per il piede di Giobert, va a terra De Lorenzi, adesso serve la palla per De Angelis ma c'era vantaggio per Pesaro e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore di Pesaro. Bocca ha fatto bene a giocare veloce nonostante ha messo il vantaggio perché erano schierati tre o quattro giocatori del Livorno a largo si poteva, visto il vantaggio, si poteva sfruttare in quel modo. Si poteva forse sfruttare ancora meglio ma comunque c'era un vantaggio per Pesaro, i giocatori lo sapevano benissimo e quindi adesso si riparte con una tuscia in favore di Giallo Rossi. Giallo Rossi oggi ricolmi di giovani visto che ha tanti ragazzi del 2002-2003 e lo stesso Allori ha portato in panchina tenti e rulli che se non sbaglio sono 2003 anche loro quindi è un allenatore che ha deciso, vista anche la concomitanza di una 19 che non gioca, di dar spazio alle giovani leve del vivaio della Pesaro Rugby e intanto buonissimo buco di Antonelli purtroppo anche in questo caso palla tenuta. Si è isolato, è vero ma è altrettanto vero che aveva fatto un ottimo buco è stata la squadra forse a non seguirlo a dovere. Antonelli oggi titolare, questa volta è stato mei ad essere lasciato in panchina dal tecnico Allori. Sì, il buco l'ha fatto di 20 metri, purtroppo o per fortuna lui ha molte gambe quindi molti non riescono a stare lì dietro e in questo caso si è isolato. Diciamo un ottimo ball carrier il nostro Diego Antonelli Terza linea che proprio i giorni scorsi ricordavamo che ha iniziato giocando un anno a Camerino un anno a Macerata e poi ormai lo possiamo considerare di Pesaro visto che questo è il sesto o settimo anno, dipende da come leggiamo l'anno del Covid che è in forza alla squadra giallorossa. Ora Touche per il Livorno sull'ultimo blocco di salto buona Touche per il Livorno vediamo i biancoverdi come manovrano purtroppo per loro si perdono un po' di ritmo Stefanini fatica a rotolare via adesso è Martinuzzi ad andare all'impatto Livorno che prova a dare ritmo Salemi che va via non si fede della sua ala però è brava la difesa pesarese a fermarli è Pesaro che prova a recuperare l'ovale l'arbitro però vede un fallo fuori gioco per la Pesaro Rugby si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Livorno Livorno che deve scegliere se andare per i pali o meno diciamo questa è una situazione pericolosa per Pesaro è decisamente favorevole al Livorno Salemi ha deciso di provare di andare dentro invece di scaricare sull'ala che era libera o meglio aveva il difensore a una notevole distanza buon per Pesaro che abbiano scelto così e adesso vediamo il Livorno andare a provare il piazzato con l'apertura Bartolo Mucci ricordiamo prima era stato Salemi in avvio di partita a sbagliare un piazzato da posizione decisamente favorevole molto più facile questa è sicuramente una posizione più complessa non capiamo che problema ci sia se un infortunio la piazzola io penso che stiano aspettando la piazzola ah no sta entrando Nardini c'è un cambio fra le fila del Pesaro entra Nardini credo al posto di Larrecciarte no è lì l'Arrecciarte forse pesano sangue sangue per forse sangue per paletta no paletta c'è forse Erbolini Erbolini sangue per Erbolini e quindi è entrato Nardini che però probabilmente è andato in posizione di ala e Venturini si è spostato esattamente in posizione di centro e adesso si riprende con una tush sui 5 per il Livorno Livorno che quindi non aveva deciso di piazzare ma di andare in tush buona la giocata Mol che si forma Pesaro deve essere bravo a contrastarlo sono arrivati più o meno sulla linea di meta Mol che continua a lavorare sono ormai sulla linea di meta Pesaro adesso riesce a mandare indietro la molle del Livorno Livorno che deve aprire dentro con Castellani Livorno che prova a dare ritmo va dentro il numero 9 ma non riesce e adesso è guerra di trinzea sulla linea di meta vediamo se Pesaro riesce a respingere l'attacco dei gialloverdi adesso rack su rack e vediamo se Pesaro riesce a respingere da così al momento sembra farcela ma l'arbitro imbriaco torna sul vantaggio precedente quindi calcio di punizione per il Livorno vediamo che cosa desiderà di fare sembra che potrebbero giocare una veloce invece no arrivano in touch sui 5 Pesaro deve organizzare al meglio questa touch e la linea di difesa conseguente abbiamo visto un Livorno che comunque in molle sembra sapersi muovere si è ben organizzata però Pesaro abbiamo lavorato molto in queste settimane con Augusto e adesso bravo a Pesaro a rubare la touch vediamo se riesce a organizzare una buona piattaforma per il calcio di allontanamento eppure invece no la palla era del Livorno no palla per il Livorno forse era Pesaro che l'aveva tenuta alta e quindi si riprende con una mischia sui 5 metri in favore del Livorno come diceva abbiamo lavorato molto bene le molle con Augusto in queste settimane fino ad ora e quindi il lavoro si vede stiamo andando molto bene in difesa adesso adesso Pesaro dovrà contrastare gli avanti del Livorno fin qui le mischie si sono più o meno mantenute in equilibrio vediamo se c'è una spinta che prevale sull'altra così non è palla fuori per i bianco-verdi buono il placcaggio dei pesaresi e vediamo Pesaro che fatica a contenere il numero 8 Bascia Livorno che continua ad andare avanti e questa volta è Pesaro a conquistare la palla per un fallo del Livorno si Livorno fa un errore ingenuo fa il doppio movimento che non si può più fare dall'anno scorso e quindi di calcio di punizione contro Livorno era una buona occasione di meta per Livorno per fortuna per noi abbiamo recuperato palle per fortuna i giallorossi ne vengono fuori bene da questa azione complessa e sarà una touche poco prima di metà campo sicuramente Pesaro respira in questo momento ora sarà da portare a terra la touche vediamo che rientra Erbolini e riesce Nardini e adesso Pesaro dovrà portare a terra la palla per provare a ripartire con i suoi tre quarti Pesaro che ha giocato poco si è visto però che nel momento in cui ha messo alla prova i tre quarti avversari comunque li ha messi in difficoltà quindi vediamo se Pesaro proseguirà su questo piano di gioco adesso calcio di Giobert un calcio per l'ala calcio che rimbalza in campo e poi esce quindi sarà una touche in favore del Livorno Pesaro che guadagna pochi metri forse non voleva fare esattamente questa giocata Giobert no penso che voleva fare un calcio passaggio per l'ala ma è andata bene anche così perché abbiamo guadagnato comunque 20-15 metri Tuscia 5 per il Livorno sembrava piuttosto storta e così effettivamente e quindi si riprende con una touche in favore dei giallorossi ok Pesaro sceglie a touche si rigioca da oltre i nostri 20 oltre metà campo abbiamo una buona occasione per andare a segnare questa volta a touche a 6 per il Pesaro vediamo se lancerà sul primo così è sul primo blocco per De Lorenzi Pesaro che subito imposta la sua molle Boccarossa urla ai suoi di continuare nella spinta sembra buona la spinta dei pesaresi ora non devono perderlo vale a terra Boccarossa fa per ripartire con Leva Leva che va a contatto mette a disposizione la palla dei suoi compagni e adesso è Boccarossa a commettere una immensa ingenuità forse non si erano capiti con una giocata che voleva fare fatto sta che è il Livorno che riparte con Bascia Pesaro deve subito reimpostare la propria linea difensiva ottimo al placcaggio del capitano Villarosa e la rac riparte il Livorno con Giusti vediamo che il Livorno prova a dare ritmo con i suoi esterni Erbolini fatica al placcaggio Livorno che avanza con i suoi tre quarti vediamo linea difensiva di Pesaro un po' in difficoltà in questo caso adesso si è rallentato il gioco ma è bravo Piras ad andare oltre la linea del vantaggio Pesaro sta faticando ci mette un po' troppo per mettere a terra i diretti avversari adesso è di nuovo il Livorno vicino all'area di meta va per un calcetto l'arbitro ferma il tempo non so se c'è un vantaggio forse per il Livorno si c'è un vantaggio per il Livorno e giocheranno da oltre 22 per sempre per il Livorno stiamo soffrendo in questa occasione perché loro danno comunque ritmo riciclano offload destra e sinistra e noi stiamo soffrendo adesso vediamo un giocatore a terra per Pesaro non so se sia una prima linea visto che vedo entrare Santino Franco vediamo un attimo l'arbitro ha proprio fermato il gioco rimandando addirittura i i giocatori del Livorno in questo caso a far a confrontarsi in panchina Pesaro che invece rimane sotto i pali non capiamo quale sia il giocatore a terra era leva per fortuna si rialza sembra nulla di grave per lui penso che a questo punto l'arbitro abbia proprio chiamato pausa acqua no non penso perché il peso sta ritornando in panchina forse per il dottore per l'ingresso del medico in campo abbia fermato un attimo il gioco stiamo a vedere effettivamente che cosa succederà fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Livorno da capire se desiderà di andare in tusce o piuttosto di provare ad andare per i pali oppure battere una veloce non mi stupirei visto come sta giocando il Livorno un Livorno sicuramente arrembante in questo primo tempo sta dando molto ritmo sono passati 30 minuti 25 25 minuti abbiamo avuto solo una palla e tutto il possesso è andato a Livorno sta attaccando di continuo non vorrei un po' di supponenza nell'affrontare questa partita da parte dei giallorossi Santino Franco vediamo che torna in panchina per fortuna nessun problema a leva e questa volta vediamo che il Livorno decide di andare per i pali d'altronde detto onestamente sarebbe un peccato per i biancoverdi non riuscire a capitalizzare tutto questo dominio di territorio in questi primi 25 minuti questa volta è Bartolo Mucci ad andare all'appuntamento con l'Ovale al 26esimo del primo tempo Bartolo Mucci però sbaglia esattamente come il suo compagno di squadra Salemi in avvio di primo tempo e quindi la partita rimane sul 7-0 per la Fiorini Pesaro Rugby sono errori gravi che la tengono lontana dal punteggio Livorno si riprende con un calcio di Jobert vediamo il Livorno che prova a reimpostare il suo gioco con i tre quarti questa volta è attenta alla linea difensiva di Pesaro che non permette al Livorno di andare subito oltre Livorno che comunque insiste sull'out di sinistra Pesaro pronta lì a placcare adesso è la seconda linea Gragnani ad andare dentro ma questa volta non mette subito a disposizione il pallone dei suoi compagni ed è bravo Pesaro a mettere le mani a mettere le mani sul pallone Marco si recupera un buon pallone che poteva potevano sfruttare adesso siamo noi in attacco e andiamo nella loro metà campo calcio di punizione quindi battuto da Jobert buona conquista Dimitri si ripartirà con una tush dei giallorossi adesso altra situazione interessante per il 15 di Allori tuscia 6 anche in questo caso ultimo blocco riesce a toccarla a Caroli fatica Pesaro a recuperare l'ovale comunque Boccarossa riesce a mantenerlo vivo per la Resarte per Antonelli che prova ad andare oltre a linea dell'ovale questa volta il sostegno non manca anche se c'è un po' di fatica in racca e adesso è Pesaro che prova ad aprire con i tre quarti palla per Venturini che prova ad andare dentro va bene vediamo se rimane con la palla in campo non si riesce e allora sarà Tush in favore del Livorno Venturini forse poteva provare a riandare dentro o a servire subito il compagno ancora prima dell'impatto scelta rivedibile ha fatto questa palla questa volta in mano del Livorno vediamo se Pesaro riuscirà a rubare anche questa Tush Pesaro non capisce non legge bene la Tush del Livorno e allora sono i biancoverdi a provare a distendersi buono il placcaggio di Erbolini che non molla l'osso e quindi mette comunque tiene l'attaccante avversario Livorno che prova a distendersi sull'out di sinistra adesso tre quarti che ripartano al centro con le terze linee il Livorno continua a provare a dare ritmo Pesaro però fa buona guardia vicino la RAC e riconquista l'ovale adesso è Pesaro che si deve distendere calcetto di Giobert per la sua ala che non riesce però a recuperarla e l'arbitro un buon calcio di Giobert in questo caso che non ci ha creduto Federico per andare a recuperare quella palla e c'è stato anche uno scontro sono andato a sbattere mi sembra rimasta a terra l'ala del Livorno io credo che ci sia stato fallo di Federico che non riuscendo a recuperare l'ala ha placato il diretto avversario che neanche aveva il possesso del pallone quindi se così sarà si dovrebbe riprendere con un calcio di punizione in favore dei Livornesi il fatto sta che il fatto sta che Pesaro non riesce a dare assolutamente continuità al suo gioco e fatica e non poco ad andare oltre alle primissime fasi di gioco ed è un peccato vista anche la qualità comunque dei tre quarti pesaresi forse potrebbe provare a fare un gioco più semplice più lineare cercando di dare continuità e mettendo in difficoltà la difesa avversaria che non pare effettivamente così precisa nelle chiusure forse anche perché stiamo giocando un po' a memoria ma dovremmo adattarci anche ai giocatori nuovi e giovani che ci sono in campo sicuramente Pesaro è una squadra che si deve trovare ancora questa è solo la quarta partita di campionato dopo la sosta di domenica scorsa e invece ecco c'era stato un in avanti del Livorno e si riprende con una mischia in favore dei giallorossi vediamo introduzione di Boccarossa buona la spinta mischia in avanzamento l'arbitro non fischia nulla però deve tirare da fuori comunque quella palla palla di Giubert per Paletta al centro forse la poteva aprire ma non aveva lo spazio necessario con la difesa subito addosso e allora palla per Villarosa che prova ad andare oltre la linea del vantaggio adesso è Pesaro dover dare ritmo per la recciarta Erbolini che trova il buco che la consegna se non sbaglio di nuovo la recciarta che prova ad andare oltre Pesaro riesce ad andare in meta una meta ben costruita una meta con un bel gioco alla mano sull'auto di destra vediamo adesso chi è riuscito a schiacciare forse addirittura Stefanini sul finire sul finire sembra che sia stato lui ad andare in meta fosse così una bella soddisfazione personale per lui sarebbe la sua prima segnatura nella massima serie adesso vediamo sicuramente il calcio di trasformazione da parte dell'apertura Giobert questo dimostra quanto se abbiamo la palla riusciamo a far male abbiamo avuto due occasioni veramente dentro del loro 22 abbiamo segnato in entrambi i casi quindi è stato bravo Erbolini a trovare il buco anche perché dobbiamo ricordarci che gran parte dei tre quarti pesaresi sanno vedere il gioco sanno leggerlo e possono andare ben oltre la linea del vantaggio in questo caso è stato ben supportato dai compagni di squadra e Pesaro è riuscito a punire questo Livorno che fin qui ricordiamo aveva fatto il match e tenuto in mano il bandolo del gioco anche dei bei recicli si sono visti in questa azione qui che hanno portato Stefanini a segnare no trasformata questa meta e quindi è Pesaro che si porta in vantaggio sul 12 a 0 al 33esimo del primo tempo partita ancora più che aperta fatto sta che Pesaro deve iniziare a tenere il ritmo e a dettare l'Igge in questo che è il suo campo a tenere la palla e lei dettare il ritmo partita Livorno che riprende a giocare con Salemi per il calcio di riavvio della partita calcio lungo in questo caso Antonelli a recuperare il pallone per Jobert che calza in tush non il suo miglior calcio fra tutti quelli visti qui Altotti Patrignani fatto sta che rispedisce di qualche metro indietro il Livorno si non è stato non ha guadagnato metri tantissimi metri come al suo solito e adesso ripartiamo da Natush a favore del Livorno adesso il Livorno seppur con qualche difficoltà porta a terra il pallone arriva avanti Salemi contrastato dai giallorossi palla ancora per il Livorno che va dentro con Ficarra Pesaro che risponde puntuale all'impatto al placcaggio fatica a mettere a terra il diretto avversario però c'è un fallo del giocatore livornese e fra l'altro il giocatore livornese che viene richiamato dall'arbitro evidentemente da parte sua qualche parola di troppo il peso fatica molto a mettere giù il numero 8 molto bravo ad avanzare fa sempre molti metri a palla in mano la terza linea centro numero 8 sì terza linea bascia che fa molti molti metri palla in mano ma abbiamo visto che anche le altre terze linee sono degli ottimi ball carrier e portano il pallone spesso oltre la linea del vantaggio adesso pallone che rimane sull'albero sul pino del parco o meglio del toti patrignani visto che è stato inglobato all'interno del campo da rugby diciamo non all'interno del campo di gioco ovviamente ma subito fuori la stazionata adesso bellissima touche per Pesaro che si può distendere con i suoi tre quarti e non si capiscono i tre quarti pesaresi purtroppo praticamente De Angelis che va quasi a impattare con Paletta portandogli anche il suo difensore però almeno la palla rimane in mano dei giallorossi bravo dal posto adesso ad andare ad impattare in questo caso Simone doveva stare molto più largo in modo che gli passasse la palla perché diciamo i difensori avevano stretto tutti ovale comunque ancora nelle mani di Pesaro adesso è dal posto ad andare all'impatto vediamo Pesaro che prova a tirar fuori l'ovale Caroli che prova a riciclare velocemente per i compagni ma non riesce si ritorna comunque sul punto del vantaggio precedente Pesaro che andrà probabilmente a cercare una tush vicino all'area di meta diciamo che i tre quarti pesareggi forse ancora devono rodarsi e conoscersi al meglio per trovare i migliori timing per l'ingresso insomma dei vari dei vari giocatori sulla linea sì adesso è giusto due partite questa è la seconda che giocano insieme soprattutto in questi ruoli qua precisamente quindi adesso ci vorrà un po' speriamo già nel secondo tempo che abbiamo trovato le misure uno con l'altro ottima tush sull'ultimo blocco per Pesaro tush messa correttamente a terra dal Livorno anzi no vantaggio per Pesaro comunque si continua a giocare vediamo Pesaro se riesce ad aprire al meglio la palla leva che va dentro all'impatto con i difensori adesso deve aprire tutto palla di Giobert per i giallorossi ma non riesce a prendere la palla al volo una palla complicata di Samolo per De Angelis pallone che aveva rimbalzato a terra era stata sbagliata l'apertura di Giobert forse non si è capito era a metà strada fra Paletta e De Angelis quindi per l'inserimento dell'estremo nulla di fatto si riprende comunque dal vantaggio Pesaro che rimane in attacco in questa fine di primo tempo va di nuovamente in tush e da lì si riparte vediamo se la molla riuscirà ad entrare di nuovamente in meta o piuttosto Bocca Rossa darà il là ai tre quarti pesaresi io penso che andranno dentro con la mischia visto che prima hanno fatto meta di mischia e infatti organizzano una bella mall scendono bene vanno spingono vanno avanti vanno vanno fanno un sacco di metri siamo quasi sulla linea di meta entrano entrano meta meta per Pesaro terza meta di giornata in un primo tempo sicuramente in cui avevamo detto più volte il pallino del gioco lo aveva tenuto in mano il Livorno ma è Pesaro quanto mai cinica ad andare a segnare questa ulteriore meta però l'arbitro ferma il gioco probabilmente è stato c'è stato un richiamo da parte del Guardaline e quindi si torna sul sul vantaggio precedente ed è tutto da rifare punteggio che rimane invariato sul 12 a 0 per la Fiorini Pesaro Rugby contro l'Unicusano Rivorno ma si riparte con un calcio di punizione in favore dei pesaresi e quindi Tush sui 5 metri in favore di Pesaro e vediamo questa volta che cosa deciderà di fare aveva giocato benissimo questa molla Pesaro non abbiamo ben capito perché non sia stata segnata la meta e fatto sta che così l'arbitro ha deciso e si riprende con questa Tush lancio questa volta sbagliato e quindi è il Livorno a recuperare l'ovale che probabilmente riprenderà a sua volta con una Tush cambio cambio di possesso che la palla va a Livorno perché c'è stato un avanti di Caroli e quindi difenderemo Pesaro deve provare comunque a contrastare questa Tush recuperare un ovale lì sarebbe determinante visto che siamo a 5 metri dalla linea di meta infatti è Pesaro che recupera l'ovale va dentro Antonelli vediamo se riesce ad aprire per i tre quarti Giobert tutto per De Angelis che consegna l'ovale a Venturini che però non abbiamo sinceramente visto come si è riuscito a perdere l'ovale aveva fatto ci era sembrato un buon passaggio da parte di De Angelis De Angelis non ha visto il proprio avversario che proprio era caduto poteva andare benissimo lui ha provato un offload saltando e ha la data a Venturini che ha fatto avanti peccato peccato se non altro si riprende con una mischia in favore di Pesaro dato che c'era stato un in avanti del Livorno sulla Tuscia e quindi Pesaro ha ancora l'occasione per allungare nel risultato vediamo se riuscirà intanto intanto c'è un cambio nelle fila del Livorno entra il numero 16 Aranda vediamo adesso se Pesaro riuscirà a distendersi meglio di quanto non ha fatto prima Pesaro dai Pesaro dai dai Simo dai Bocca rossa ha introdotto ma questa volta è stato rubato l'ovale dai Livornesi che fra l'altro avanzano e conquistano anche un calcio di punizione Pesaro si è un attimo persa non si è capito bene cosa sia successo in questa mischia e da che Pesaro doveva aver allungato con la terza meta ne ha buttata via un'altra ed ora palla in mano al Livorno tre minuti di blackout per il Pesaro che ha permesso al Livorno adesso di rimandarci vicino alla metà campo primo tempo che agli sgoccioli 40 minuti che sono passati ma c'è stata la lunga pausa voluta prima dall'arbitro imbriaco di Bologna ricordiamo i due guardaline di giornata invece Capone e Paolini di Pescara Tush in favore dei biancoverdi adesso una Tush sicura per il Livorno buona Pesaro al placcaggio Livorno che riorganizza la sua linea di difesa subito subito Aranda ad andare all'impatto il neo entrato Salemi che prova ad andare oltre e adesso è Pesaro che cerca di respingere indietro Castellani fa sempre metri Castellani d'altronde la stasta è dalla sua e adesso è il Livorno che prova ad andare e a macinare il gioco con i suoi tre quarti ma è buono anzi ottimo il placcaggio di Erbolini buono il Livorno che comunque continua a macinare il gioco dando grande continuità Pesaro in una fase molto dispendiosa del suo gioco e alla fine è il Livorno che commette l'avanti e termina qui il primo tempo spazio alla pubblicità Bernabiretta non ho capito ma ha vinto ma come ha fatto l'ha dato non se l'aspettava un coglione è vero che